Amici dello sportello del cittadino, siamo a Taranto, precisamente in zona Taranto 2, proprio alla fine di Via Scoglio del Tonno. Una situazione incredibile, pazzesca, uno spreco di danaro pubblico, perché vedete a fianco a me una bellissima villa, una villetta attrezzata con panchine, con gli alberi sono ben curati, il servizio di igiene, di pulizia è perfettamente realizzato, quindi merito all'amministrazione comunale che pulisce, quindi fin qui voi direte tutto bene, un'area pubblica di proprietà di pertinenza comunale, ma signori cari, mi sembra davvero incredibile, pazzesco, lo sottolineo, pazzesco, questa villa è chiusa, questa villetta non è fruibile per la comunità, guardate, tanto di catenaccio, chiusa, nessuno ci risponde, ma immaginate un po' quanti anziani, quanti bambini, quante mamme potrebbero fruire di questa villetta, oggi siamo in inverno, ma è una bellissima giornata di sole, come sarebbe bello prendere un po' d'aria, stando seduti a una panchina e invece che cosa fa l'amministrazione comunale? Giustamente tiene in ordine la villa, però la tiene chiusa, pazzesco, ditemi voi se questo non è uno spreco di danaro pubblico, ma di più vorremmo sapere le ragioni misteriose per le quali la villetta rimane chiusa, pazzesco no? succede a Taranto.